E' vero che non ci può essere un ospedale ogni due chilometri, però altrettanto è vero, secondo me, che non ci può essere un ospedale ogni duecento chilometri, perché se no la gente trefa, ed è una cosa che non esiste in uno stato nel 2015 occidentale. Poi mi taccio e concludo rapidamente. Ricordo che, e guardo in maniera molto semplice questa manovra, uscendo di casa la mia mamma, che è una pensionata, che è una casalinga, alla quale ho chiesto Mamma, fammelo tu, perché se lo faccio io magari poi sono di parte, di bandiera, fammi tu un elenco delle tasse che pagavi cinque anni fa e un elenco delle tasse che hai pagato quest'anno. Poi tiri la somma, la casalinga, la tipica casalinga che fa i conti, non c'è bisogno dei grandi professoroni alla Monti. Paghi più tasse o meno tasse rispetto a cinque anni fa, alla fine dell'anno la mia mamma, pensionata, riceve meno soldi, ha meno soldi nel portafoglio. Questo è la cosa che dobbiamo dirci. Poi si inventano tanti nomi, l'Imu, la Tasi, la Tare, se io non so più neanche qual è la tassa dei rifiuti, figuratevi, perché appunto forse per mettere un po' di fumo nella mente di tanta gente, di tante persone, si cambiano spesso questi nomi. Beh, alla fine le tasse sono di più, punto. Poi ci si può inventare tutto quello che si crede.